Grande successo il 16 giugno 2016 a Palazzo Brancaccio a Roma per il Summer Night Party, la festa dell'estate dedicata alle eccellenze e al Made in Italy nel settore wedding e grandi eventi. Un party al quale hanno partecipato oltre mille invitati che ha visto protagoniste ben nove aziende di grande esperienza e talento. Uno dei fantastici nove è Foto Bellocchio di Luca Bellocchio. Ho deciso di partecipare al Summer Night Party perché innanzitutto sono il fotografo di Palazzo Brancaccio e poi dopo è una cosa spiritosa, una bella festa, fa piacere partecipare a questo tipo di feste. Devo il mio successo soprattutto a mio padre che mi ha dato questa professionalità, questo lavoro. Lui era un artista, vecchio stampo naturalmente perché è un'altra epoca, un altro mondo rispetto ad adesso. Ai giovani sposi consiglio soprattutto di conoscere il fotografo, di capire che tipo di lavoro fa e se di proprio gusto naturalmente rivolgersi a lui. Foto Bellocchio è creatività, esperienza e professionalità.